Il punto trafori fantasia si lavora su numero di maglie multiplo di tre e si ripete ogni quattro ferri. Si comincia a lavorare sul rovescio del lavoro. Lavora a rovescio il primo ferro. Comincia il secondo ferro lavorando le prime due maglie a diritto. Poi ripeti la sequenza di un gettato. Tre maglie a diritto. Con la punta del ferro sinistro solleva la prima delle tre maglie appena lavorate e falla passare sopra le altre due maglie. Ripeti questa sequenza fino all'ultima maglia e termina con una maglia a diritto. Lavora a rovescio il terzo ferro. Nel quarto ferro scambia la posizione dei motivi. Lavora la prima maglia a diritto. Poi lavora la sequenza di tre maglie a diritto. Con la punta del ferro sinistro solleva la prima delle tre maglie appena lavorate e falla passare sopra le altre due maglie ed esegui un gettato. Ripeti questa sequenza fino alle ultime due maglie e termina con due maglie a diritto. Ripeti questi quattro ferri per proseguire il motivo del punto.